Oh, vedo tutto sfogato, ma che dè? Pronto! Pronto! Aprete se, Samu! Oh, signora, me apri? Oh! Apreme! Magna panini del cazzo! Allora, Wizard Lock, grazie mille della sub, grazie mille! Ciao, bellissimo, grazie! Crispy McBacon! Ti piace? Ti piacciono i panini, eh? Crispy McBacon! Ecco, brava! Namu! Andiamo a vedere se c'è sta Merlino oggi, se c'è sta Merlino, porco demonio! Lo diavolo è arrivato! Preparatevi! Buonasera! Buonasera! Sei nuovo? No, no! Sei il primo anno? Eh, vabbè, ma tra un po' passo al secondo! Ah, tra un po', al secondo! Eh, io sono mancato per un po'! Ci stanno i professori oggi? Sì, dovrebbe, non so se ci stanno professor Bauros e professor Wright in sala grande! Senti, te da quanto tempo è che stai qui, più o meno? Beh, domani c'ho l'esame per passare al secondo, quindi all'incirca un anno! Ah, ok, ma che è successo in questa settimana? Che io non so, non sono venuto qui! Non sono, eh, sono stato, purtroppo sono andato a casa mia e non so potuto venire qui! Che è successo? Beh, è successo in realtà un po' di tutto, ieri è morto professor Silento! Eh, sì! Come? Eh, sì! E quando è morto? Eh, ieri! Beh, è meglio perché me stava sul cazzo, me stava! Me stava proprio sulla bacchetta, me stava, sai, si vende! Vabbè! Sì, sì! Poi anche oggi! Oh, in tediosco, come va? Ci avete da mangiare per caso e da beve perché c'ho una sete, una fame, guarda, grazie! Oh, 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 oh! Grazie, eccoci! Hai saputo del preside? Che c'ha fatto? Come ha fatto a morire? Diciamo che ieri... Ma spè, spè, spè! Grazie, Dagan! Grazie mille, 29 mesi! Grazie mille! Eh, spiegami com'è morto! Allora, diciamo che ieri stavamo tutti in sala grande, al che arriva un'entità chiamata il pianista, che appunto, che se tu ascolti delle melodie del pianista, può essere molto fatale per te, al che tutti noi alunni... Eh, spè, 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 che sei un pianista, un pianista! Ma che cazzo dici? Ci sta uno che sono un pianoforte! Eh, sì, però se tu ascolti delle melodie, è una melodia mortale. Ah, le melodie mortali! Indominati che c'è del sotto! Eh, 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 c'è un'altra cosa, Wintyrius, forse... Non so se ti piacerà. Eh, dimmi, 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 che è successo? Ti ricordi Adrian Cliff? Eh, come no, certo, Adrian è un amico mio. Eh, diciamo che siamo stati appena convocati in sala grande. Ah, eccolo! Eh, ecco, ma chi te è qui, si, oh! Professore! Sper, professore, levati, porco demonio! E levati! Professore! E non sono un professore, è che ti ho visto. E allora perché stai vestito così? Che c'è sta, un galà? Ma chi siete, come vi chiamate? Non ho mai visti. Ti conosciamo? Si, siamo da visto. Kevin, è Kevin. Kevin? Sì. Allora, che è successo il professor Silente? Ma mi hanno detto che con la melodia... È morto. È vero? Sì, è morto, è morto. Sì. È morto. Ma morto, morto? Ma morto. E quando c'è stato il funerale? Non lo so, quindi, devi chiedere. Ma c'è stato il funerale, sì. E se voglio vedere la Sarma, ci sta la Sarma? È morto anche adrian cliff. Ma che cavolo dici? Io lo stavo spiegando. No? Stavo spiegando. È morto. 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 Quello, lo sapevo. Quello era troppo... Non si faceva di cazzi sui. È appunto appunto. Era uno che metteva sempre il naso dove non doveva metterlo. Infatti. Eh vabbè, oh, è successo. E quindi... Cazzi e suoi, quindi... Eh, il bacchetto sui, sì. Appunto. E niente, quindi... Ma ci sta Silente da qualche parte? È morto. È morto. Ho capito, ma della Sarma, non lo so. Dovò a chiedere ai professori se non metto qualcuno. Marca, ci stanno i professori. Sì, è un quadro di lui ci vuole. No, non lo so. Eh, ci stanno i professori dove stanno? Un solo professori che non l'altro ci vuole. Vado a trovare. Sì. Vado a vedere. Sono venissima a te? Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Ah, andiamo, andiamo. 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 Che giro a te o l'onius. Te o l'onius. Te o l'onius è piacere, mi chiamo quindilius. E se ne vede, 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 vede. Andiamo, andiamo. Vuoi che fate qua? Ma siete del primo anno? Sì, sì, sono arrivato ieri. Allora, se sei arrivato ieri devi sapere una cosa. Che tutte le streghe dentro stu cazzo di castello ci hanno tutte la fodera di legno. Tutte, tutte, una per una. Tutte la fodera di legno. Tutte quante. Sì. Sì, devi stare molto attento a come gli scrivi, come gli parli, perché poi quella, dopo se gli gira le... se gli gira la bacchetta, poi... insomma, capito? Ah, ok, ok, capito, capito, capito. Come mi ha chiamato? Eh? Come mi ha chiamato? Ho detto, capito, capito. Ah, ok. Andiamo, 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 andiamo. Ma come ha fatto a morire Albus, che era immortale? Eh, da quello che ho saputo, ieri c'era questo qua chiamato pianista, che è una specie di demone, qualcosa. Eh, ma sto pianista, chi l'ha chiamato? Eh, non lo so. No, praticamente è un portcast dove appunto, già che ai tempi ci hanno combattuto quelli più grandi di noi, al che comunque questo pianista ha, diciamo, molto infastidito la scuola. E ieri, non ho capito il preside, beh... L'ha combattuto. L'ha combattuto da quello che ho capito, e questo pianista le ha dato una maledizione ed è morto. Esatto. Oh, ma che maledizione, ma secondo me è molto... se sopravvive, dai, mori, donne, a vivo. Ma c'è 150 anni. Eh, no, mio cugino, mio cugino, Alex Lonius. Sì? Eh, l'ha visto morire davanti ai suoi occhi. Di qua, vero? Sì. Eh, sì. Ma ve lo dico io, ma parlo con Anastasia, che lei è una maga, avete quelle proprio super... Ma guarda, Anastasia non penso sia una necromante. Sì, 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 fidate quella... Ne... 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 Necromante, in grado di rianimare i morti. O meglio di rianimare... Allora, la necromante rianimare i morti. Beh, all'incirca di rianimare... E allora bisogna trovare una necromante, bisogna trovare, allora. Che Arbus mi serve? È importante, Arbus. Senza Arbus qua non c'è... Non c'è effettivamente un incanto che riporta le persone in vita, li riporta più o meno all'incirca, non al cento per cento. Ah, più o meno al cento per cento no. Eh, no. Grazie, Fiorano, 03, c'è un bello, otto mesi. Di conseguenza non siamo più coperti come prima, Quintilius. Infatti... Eh, appunto, appunto, è quello che volevo parlare io. È solo grazie a Silenzi. Le mazzate che pighi fanno male il doppio, se non di più. Ah, sì? Eh, già. La cosa è che adesso la scuola, ci potrebbero entrare qualsiasi persona, perché è morto Silente, quindi la barriera è praticamente nulla. E a Silente ci reggeva la barriera, ma adesso non più. Ah, era Silente che reggeva la barriera. Eh, direi un po' di sì, sì. Più che altro, molto spesso la riparava, cercava di comunque proteggere noi studenti. Questo è sempre stato il compito dei vari presidi, quindi... La cosa che adesso siamo noi è difendere noi stessi. E quindi molto spesso sto con la bacchetta in mano. Ma qual è il problema? Io sto con la bacchetta, gli faccio un confringo sotto gli dendi. Brucio tutti, questi demoni. Compringo, venite. Io sono Fumos. Andiamo, andiamo. Io ho parlato Fumos ieri. Io ho parlato Fumos ieri. Fumos. Eh, bravo, bravo. Professori! Professori! E provare lì? Professori! Ma io non ho avuto il coraggio di aprire così e entrare così, perché magari... Professori! Ma che me frega, io ho già pure della morte! Professori! Hai visto il quadro? Hai visto il quadro? Dove? Guarda, 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 il quadro. Ah! Hai visto il quadro? Vecchio mio. Dobbiamo fare un minuto di silenzio per il preside? Vai, facciamo un minuto di silenzio per il preside, vai. Un bellissimo Lumos. Esatto. Io non ce l'ho, quindi tengo comunque la bacchetta in mano, anche se non posso. Ok. Lumos. Grazie, Gabri. Se dice un mese, grazie mille, bellissimo. Aspetta, aspetta che non ci stanno le donazioni. Non funzionano, aspetta. Ok, a mo' ho messo... Ho riattivato la cassa adesso. Abbiamo una villa! Buon parco del Cristo de' Dio! Nox. Nox. Me l'ero dimenticata per quando cazzo era forte sta cazzo de' cassa. Ma... Quindi lo so, però, da anch'io, ma a quanto pare l'ufficio non è agibile. Non c'è più? Eh, non agibile. Hai messo con le candele? Non c'è neanche più la sua venice, non c'è più nulla. Eh, anche la barriera. L'ordine de' chi? Che? Buonasera, professore. Buonasera. Buonasera! Buonasera! Eh, ma te sei diventato un professore? Ah, 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 da quando? Da un po' ormai, un anno. Ah, da un anno? Quindi ti conviene non farmi arrabbiare, ora. Professore di quale anno? Che fungera professore è abbastanza. Ah, ah, un professore basta, quindi lei può farmi anche un paio di ripetizioni? Che io hai un anno che non entro più, perché sono andato in un'altra città, adesso sono tornato, ecco. Ti sono mancato? No. No? Questa giacca ti dona? Non posso dire anch'io che ho bisogno di un po' di ripetizione. No, fuori. Oh, chi è per me? No, è per me. No, che fai, che cosa devi recuperare se è una zecchione? Allora, eh, io, io non so un zecchio, io non so un zecchio, non so un zecchio, ne vuoi recuperare le cose molte. Sì, 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 allora. Allora, eh, io non lo so, non so nemmeno in che anno sto, cioè non mi ricordo, dov'è che si vede l'anno? È del terzo anno, ma come, che va dire? Sono del terzo anno e non ho imparato ancora nulla del terzo anno, non so. Ah, niente, ottimo. Niente. Allora ci penso io. Ok. Poi dopo, insomma, quando costa sto servizio, che non mi ricordo? 20 galeoni a lezione, quanti mai? Ah, ok, ok, ok. No, no, ce n'ho tipo due trecento, ce l'ho. No, è un terretto ora, wow. Sì, sì, sì. Sì, tua madre deve stare impegnata. Eh? Come? Eh? Come? Eh? Non l'ho. Ok. Allora, devi recuperare l'incantesimo lapis, con lo show. Con lo show ce l'ho. Aspetta, aspetta, fammi un attimo vedere quello che c'ho e che non c'ho, aspetta. Allora, con lo show, con lo show, ce l'ho. L'apis. Cioè, ma che l'apis è del primo anno? Oh, mamma, hai ragione, hai ragione, sono, ecco, com'è. Lumos Maxima. Non ce l'ho. Pancek. Non so cosa sia Pancek. Incendio. Non ce l'ho. Protego 2. Non ce l'ho. Ebbene, sono questi. Ok, invece per quanto riguarda Infensus. Ah, non hai scelto Ramo Infensus? Certo, perché voglio diventare un mago potente che ammazza tutti, ammazza tutti i ridemoni. Per quanto riguarda Infensus non devi chiedere a me. Ok, ok, ok. Ok, ok. Sono 80 galioni. Ok. Cazzo, c'erano solo 44. Ehm... Ok. Grazie. Grazie mille, grazie. Gentilissimo. Gentilissimo, grazie mille. Scusi, professore, c'è bisogno del suo aiuto. Un attimo, morrivo. Immagino ma sovrastare. Eh, è un'emergenza, dicono. Sì, morrivo. È un'emergenza. E allora adesso l'emergenza arriverà e verrà soddisfatto. C'è un ragazzo che c'è le convulsioni. Eh, arrivo. Fai una respirazione bocca a bocca. Ma... Lo metti, prima lo metti lungo, appangio all'aria e poi fai delle specie di massaggio cardiaco e poi fichi la lingua dentro la sua lingua, dentro la bocca. È finito? E poi soffi dentro. Cosa? Ma è il professor questo? No, non è il professore. No, che devo... Eh, poi è il ragazzo che... Io ho finito? Sì, sì, è finito. È il professor Wright che ha detto di chiamarlo. Ah, Wright ci sta? Arrivo, 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 arrivo. Dove? Dove? In infermeria? È in infermeria, sì, sì. Ok, andiamo, 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 andiamo. Io, puoi, 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 puoi. Sì. C'è un grande. Grazie, grazie, andiamo, andiamo. Ma tu hai fatto il medico, Quintilus? Sì. Perché non eri in sensus, Quintilus? Sposto, ti non so nulla. Devi muoversi. Quintilus, muoviti. Quintilus! Quintilus! Gori, 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 io, io, io Oh no, è baffanculo No, tutto ok, quindi luce Oh, ok, tutto ok Dove sta? Andiamo, andiamo Iemo, iemo, iemo Ma dove sta l'infermeria? Qua? Vieni, vieni, ti segui me Dritto, vai, vai, corri, corri Andiamo, andiamo, iemo, iemo Bravo, bravo, bravo Io, 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 corri, corri, corri A destra dove? Qua sotto? Qua? Oh, porco di quel Cristo morto Ma che è? Oh Mannaggia la barba di Merlino Ma è tutto a destra, sono andato a destra io Se te piglio Te faccio diventare mezzo sangue Che cazzo la roba Ah Sono tutto bagnato Ma gioca qui, dice Dopo mi informo per il quidici, ragazzi, quando ci sta la partita Se domani ci sta la partita dei quidici Ci si fa quattro risate Ahahahah Che cazzo andranno a fare tipo seria Ma quinti, ma tutto è bene Ti abbiamo visto cadere da lassù Ma c'è un testo da cazzo che mi ha detto Non mi ricordo chi era che stava davanti a me Ma ha detto vai a destra, vai a destra Ma sì, sicuro? Sì, sì, a destra Sono andata a destra e niente Ah No, quinti, se non ti tirano a destra Si Ti ho detto, ti ho detto Guarda che è a destra l'infermeria Non ti ho detto va a destra E destra A destra E destra e l'infermeria Destra Davide Vabbè, 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 vabbè Andiamo Vabbè dai tranquillo, andiamo Bacchetto in mano, mi raccomando Perché qua potebbero esserci mai gli oscuri Eh sì, infatti ce l'ho ragione Altrimenti Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Qua Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, vieni pesi di qua sono arrivato ieri sì sì quasi sia là sopra sopra solo sopra come si fa a giocare a garris mod dei viaggi non mi ricordo quanto costa poco ci serve la parola d'ordine di difondoro del fondoro nostro dentro lato io no 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 almeno 50 50 galeoni 50 galeoni e 50 galeoni e vela dico posso parlare 100 100 si è morivo morivo ho saputo il tuo fratello quando gli anzi andiamo andiamo e faccio vedere la password andiamo sopra qua qua veniamo andiamo andiamo al karma tv andiamo andiamo io voglio voglio questa è una pari nara aspetta aspetta gli altri aspetto si 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 a prima metà te allora prima metà dei 50 galeoni a testa a 10 a testa 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 ma che per la parola d'ordine allora questa dovete capire questa qua è una grande signora insomma la vedi quando è grossa no la vede la madonna grossa questa questa qua non mi ricordo come si chiama però la parola d'ordine a che vi serve tanto le possiamo portata a mangiare ok la parola d'ordine crispi macbaconi crispi macbaconi eccola vedi come si apre prova ecco vedi ecco ecco io io prova prova se non puoi provare poi provare ma si è aperta crispi macbaconi quello non si è quella aperta tutti i monici della fodera qua andiamo insieme prova 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 se la parola certo e prova non è questa la parola non è giusto è giusto è giusto è giusto e prova c'è crispi macbaconi nella e alla fine oppure no be con il libro non già bene crispi macbaconi siamo sicuri si prova io devo provare prova prova come che crispi macbaconi crispi macbaconi no più forte e più scan ecco vedi come si apre ecco prova tu prova 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 crispi macbaconi eccola ha detto un po male ha detto un po male l'accento la madre per cosa best no non ho aperta io lui funzionava vero e dicendo che funziona le spieme con nei ma vedi perfetta che per me raccogli la parita dove me l'hanno fregata aiuto quindi mi dia la mia lettera per favore dammi l'elettro che è finito sento ha detto alanna non quanti riusci a ok a non ci passi ma non fregata allora il prefetto ci ha detto di non dire la nostra parola d'ordine a altri della delle altre casate ma te pare ma te pare che crispi macbaconi no ma te pare che i pupazzi io stavo io ora gli stavo a chiudere la porta esatto io però non è trovare tesi sei un tesi cosa vuoi e a lui usami non mi prego meno aspetta aspetta che la cerco e come come si fa vedere inventario non ce l'ho 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 dai su dell'acqua gargamelle della partaglia da e non fare il prezioso non ce l'ho visto che l'hai presa ma scusa che me non ho capito c'è ma anche una pergamena sono state persone sono andate via magari uno più uno fa due cioè magari l'hanno presa loro infatti c'è credo poi non lo so allora io ho controllato io sono queste come pergamene posso leggerle e leggire come frega i funghi ok ok giustamente una poi leggiamo questo in privato certo che poi contattami in privato perché mio fratello per la 2.000 capri 60 16 mesi grande prodotto di quinti rosso giusto quanti lo sono fatto il mio cugino t'ha scritto ma chi mio cugino alex lo news alex cc 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 l'ho capito a alana e non lo so solo i miei famiglia e vabbè leggere strappa di come te pare ma mi hai mi hai per caso dato lo pericolo alana non sei alana non sei alana alane Allora, me dovevi parlare Comunque, allora Io le volevo fare le condoglianze Perché ho saputo Del malfatto di Adrian Insomma, le volevo fare Le mie più sincere condoglianze Per Mi mancherà tanto Perché comunque è stato un grande amico Per me, era una grande persona Deve essere lutto anche per te Sapevo che era il tuo migliore amico Sì, lo so, lo so, infatti Insomma Mi dispiace tanto, mi dispiace Mi mancherà tanto Mi mancherà Condoglianze 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 Ma in tutto ciò, il quindice Quando è che c'è Starwood Dice la partita del quindice Questo non lo so Non c'è Allora Andiamo a casa Sono un pochino Quindi Buonanotte 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 Allora il quindice Si dovrebbe fare In teoria Prossima settimana Ho prenduto il campo Lunedì Ok No Ma lunedì Non ci sto No È giusto un allenamento Non è una partita Quindi Non ti preoccupare Ci saranno Altri allenamenti Per poi fare una partita Fatta bene Ecco Ok Un momento solo Un momento solo Arrivo subito Tromba Tromba Sciarpa De grifondoro Che madonna Quanto costa Ma costa Lire di Dio Costa Vabbè dai Me la compro Comunque Una bella trombetta Io Ok Ok Sì E dicevi Dicevo che praticamente Non è il momento Perfetto Per fare anche Partita Amichevoli Perché anche perché Non è un bel momento Per la scuola È morto Il preside Quindi Oltre adrian Però Quindi lunedì Questo Tra due giorni Sì Diciamo sì Ho prenotato il campo Per fare un allenamento Vediamo se si farà Perché effettivamente Ripeto Non è il massimo Fare allenamenti E fare Partite di Quidditch Sotto questa situazione Anche per la nostra In comunità In columità In che? In columità Ah ok Eh non è il massimo Ecco Anche perché I professori Poi dovrebbero Proteggere tutta la scuola Ecco Mi dispiace tanto Che è morto Il preside Più che altro Ieri poi Ci hanno fatto Riunire tutti Alla piazza Quattro stagioni E Ci siamo mangiati Una bella pizza No 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 E Praticamente Mi stava finendo Diciamo Un albero addosso Per fortuna Ho schivato In tempo L'albero Ok L'albero Come Che vuol dire Che ti ha cascato Un albero Sulla testa? Eh perché C'era il pianista Che Era ancora Intorno a noi I professori Diciamo Ci hanno protetto Finché potevano E A un certo punto Eravamo tutti vicino Alla fontana Quella centrale Io stavo Leggermente Diciamo A lato Al che Comunque È caduto Un albero Dove ero io Vicino E Quando è caduto Mi stavo quasi Prendendo Beh Detto ciò Credo che sia meglio Tornare dagli altri Vuoi sentire una bella canzone Col pianoforte Adesso? C'è un pianoforte Qua vicino? Dove si può suonare? Eh Non lo so Non credo No? Vieni 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 Troviamo Dovrebbe stati po' qua Ma ce sta un pianoforte? Dai ce deve sta Crisp McBagon Non ce sta un pianoforte? Eh Da quel che so Io no Non credo Effettivamente È un po' paradossale Anche perché Se c'è un'entità Che si fa chiamare Il pianista E si sentono Delle Diciamo Delle Delle canzoni Ok Delle melodie Eh Effettivamente Ci deve stare un piano Non so dove Ma Da qualche parte Ma fanno tutte schifo Ste canzoni Ma non ce ne sta una Con il pianoforte Di Cici D'Alessio Che è bella Insomma Se può mettere Aspetta Aspetta Mo vedo io 4 3 2 1 3 Vedi Godric Il quadro di Godric Vabbè Non la trovo Non la trovo Comunque immagino Che sia stata Una brutta canzone Insomma Era una brutta canzone Insomma Ma perché proprio Arbus È morto Arbus Perché da quello Che ho capito Ci voleva proteggere A tutti Al che Piton Ci ha fatto Andare fuori No Diciamo Piton ci ha scortato A tutti i studenti Ci ha fatto portare fuori Dalla scuola A un certo punto La scuola Stava cadendo a pezzi Al che Il preside Ha provato a A sistemare Tutto quanto E ha provato A difenderci Da questa entità Che comunque Si fa chiamare Il pianista Da quello che ho capito È stato maledetto Il preside Per poi appunto Non lo so Morire Ma sto pianista Chi cazzo è Da dove è uscito fuori Praticamente Da quello che ho capito È un poltergeist Ok Che praticamente Fa Emanare Delle Appunto Delle melodie Col piano Ok E se tu L'ascolti Per un po' Ecco Puoi avere Giramenti di testa Nausea Lo so Sentite che hanno Sei del secondo Quindi Conosci Anastasia L'hai vista Sì Ok Dove sta adesso Penso che stia Sempre a wheelchair Andiamo Andiamo a wheelchair Vai Devo parlare Con Anastasia Assolutamente Eh Diciamo che Dovrei andare In cucina A fare del cibo Ah vabbè Allora vado da solo Arrivederci Sei sicuro Sei sicuro No Però ci vado Ma io non c'ho pura Niente Ma che mi potessero ammazzare Meglio Woohoo Allora qua andiamo Allora andiamo a Swishare Andiamo a Swishare Swishare Dobbiamo andare Sulla città Quella dei note Eh Cattroio Io non mi dimentico Di te Nova Nova Io me ricordo Ciao Windylus Io non dimentico Io non dimentico Io non dimentico Ciao Windylus Non ti farà affinare le ragazze Né altre persone Le persone che hai attorno Sono molto ragazzini Che sperano Che ti faccia qualcosa di stupido Per poter ridere Cibo Vieni che te lo prendi Non ti stanno vicino Perché ti vogliono bene Beh Effettivamente Ragazzini che sperano Che tu faccia qualcosa Di stupido Per poter ridere Non ti stanno vicino Perché ti vogliono bene Solo perché sei un clown Sì sì Questa Mui gli faccio Favolù Quindi vedi tu Come comportarti Da oggi in poi Magari Ti farei dei veri amici O Incontrerai davvero Qualcuna Che ti voglia bene Ma comportandoti così Non accadrà A nuova Montgomery Preparati Che te faccio beve L'ammortizia L'ammortenzia La te faccio beve Te la faccio beve Te leggo Su un palo Fin che non la bevi Cazzo Arve Guardate Ehi Ciao Drago Professor Malfoy Mi erano macchiati Ah vabbè Drago 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 Lucio Marfoy Vabbè Drago Vabbè Un problema Se ti chiamo Drago Sì ho un problema Sono il tuo professore Vabbè Allora Professore Professor Drago Ecco Va bene Ok Chi è? Buonasera 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 Sarve Allora Professore 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 Allora Io avrei bisogno Di informazione Ma lei ha visto Per caso Anastasia All'interno Del castello Oppure Sta al Wilshire Allora Io attualmente Non sono andato Wilshire Potrebbe essere Wilshire Effettivamente Ok Ok Perfetto Perfetto Grazie mille Arrivederci Arrivederci Fai attenzione Se vai Wilshire Aspetta Fermati Fermati Buonasera Ok Maledetto Cristo Morto Ma Chi è? Ma Sta Quei giro Sbacchiati Chi è? Perché questo Sguardo Che era? Era un Border Geist Era un Mago Nero Che cazzo Era? Era Incantissimo Aspetta Patroni Ah Aspetta Patroni Ah Mievela Non è qua Chi è questa? Cosa Voglio Cali Ciao Come stai Cali Tutto bene? Bene Tu? Sì Bene 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 Lucida da scuola Sì 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 Cali Io Insomma Le dovrei parlare In privato Ok Che succede? Possiamo un attimo Spostarci Un attimo Andare Sì Bisogna andare In presentazione Vieni Che è successo? Allora Le spiego Lei è l'altra sera Sì Lei è l'altra sera Oddio Ora sta arriva questo Che coglioni Ah se c'è qualcosa? Allora Lei è l'altra sera No l'altra sera Io e lei Siamo Insomma Mi aveva promesso Sì Grazie Dark Oggi verremo smissati del cappello No 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 Ma perché fai Cioè Non capisco Perché hai fatto questa roba Scusami No Dai non ti sento Dimmi Sì mi scusi Possiamo un attimo Spostare L'altro giorno Lei mi aveva promesso Che insomma Mi portava a vedere La casa sua Mi sento Insomma dove Mi sente? Sì sì Allora le stavo dicendo Che l'altra volta Lei mi aveva promesso Di portarmi a casa sua A farmi vedere Sì puoi vedere Sì puoi vedere casa mia? Eh Vorrei Più che altro Perché insomma Ma hai lasciato a peso Ma hai lasciato a peso E' brutto Lascia a pesire le persone No Quindi l'ho saputo da fare Purtroppo Perché ero impegnata con i mago Con i mago? Ok I mago sì Chi è il mago? Quale il mago? I mago sono La fase finale Della fine della scuola Una volta che hai fatto i mago E li hai superati E hai finito la scuola Ah E lei quanti anni ha? Scusami Io Io ho a breve 22 Ah Vabbè 22 Sì Ma a lei piacciono i bambini? E no Le persone più piccole di lei? Eeeh Ho Sai che io ho adottato Un bambino No perché io Praticamente Non ho ancora 18 anni Cioè no Quasi 17 Quasi 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 17 Quasi Diciamo in questa fase Molto Diciamo Molto Esplicita della mia vita Io vorrei insomma Trovare l'amore della mia vita Vorrei scoparte forte Porca troia Quasi la fodera Porca puttana Te la Te la Trapano tutto Te la trapano Si Esatto Quindi Insomma io Non dico che mi sono innamorato di lei Mamma mia Quasi la Sotto i denti Truffico Porca troia Quindi io vorrei Vorrei tanto Conoscere Lei Più nel privato Più nell'intimo Capito Più vorrei capire Dove abita Dove Dove non abita Vorrei Insomma Uscire con lei Perché ecco Qui In questa scuola Ci sono una marea di ragazze Però tutte Che sono veramente Guarda Appena mi vedono Scappro via Come mi vedono Come mi sentono Si girano dall'altra parte Cioè proprio tutte maleducate Tutte Tutte Ti comporti male? No Ma che mi comporto male? Ragazzi No però Allora guarda il problema Eh? Qual è il problema? Il problema Lo problema è più grosso Che sono tutte morte di figa Tutte figa di legno Tutte Una per una Figaccio di legno Porco Dio Il problema principale È che Purtroppo In questa scuola Evidentemente Non sto molto simpatico Ecco Quindi Vabbè Lei è stata l'unica Che è veramente È stata veramente Gentile Lei è una Gentildonna Di quelle Proprio Veramente Una donna così gentile Non l'ho mai conosciuta In vita mia Oh Grazie Gentilius L'unico problema È che Ecco Mi ha Praticamente Non mi ha risposto Alle pergamene Mi ha lasciato appeso Ecco Gentilius Ci devi sapere Che ho tante cose da fare Tante Mi sto impegnando Per approfondire Il rama che ho scelto Sto cercando Di diventare professoressa Ah professoressa Vuole diventare Sì 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 Vabbè però C'è sempre modo Per rimediare no Insomma Se andiamo adesso A casa sua Insomma Mi può far vedere Adesso sto facendo Dei duelli Se vuoi unirti O vuoi venire In sala duelli A vedere O a partecipare Mi lascio sempre appeso Mi lasci No Ti sto invitando Quindi Dove? A casa tua? In sala duelli A casa ci vado tra poco Ora non ho motivo Di andarci Me lo prometti Mi prometti Qui che dopo Mi porti a casa tua? Facciamo una cosa Sì Performi Che devi perform Che è successo? Eh No 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 Ok Va bene Eh però Devi stringerti Se no non vale Sì sì Stringo Stringo Ok Ok Se venirti Siamo in sala duelli Una parola Una parola Sì Ok Poi mi è andato anche il mignolo Quindi Bene Andiamo 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 Arve Ehi Fai una brutta fine Se è con ti Ares Oh Che parlava No 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 Adesso 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 Ciao cappello Ti ricordi di me? Oh cali Ciao sette Come stai? Io scusa il cappello Stai prendo per il cui cappello No io no Dietro di te c'è il professor Lui che prende per il cuore Ciao sette Ti ricordi di me? Sì 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 Certo Certo Allora Come stai? Bene 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 Ah tu sei il bibliotecario Mi pare? Sì sì Devi smettere di porteggiare a cali Davvero C'è un ragazzo nuovo Che ti stava cercando Chi è? Smettere di porteggiare a cali Un ragazzo nuovo E mi cercava Perché? Perché vuole Più informazioni Su la biblioteca No 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 Non esiste Deve andare a qualcun altro Vabbè sette vieni Sì Allora ti dicevo Io vorrei sapere Se ci sta qualche libro Diciamo Dove che posso imparare In biblioteca Perché Insomma So che c'è una sezione Della biblioteca Dove non è accessibile Al pubblico Però con delle chiavi Speciali Che c'è il professor Piton Si può Accedere a una sezione Oscura Della biblioteca Sì La sezione per vita Sì Però le chiavi C'è soltanto Piton E non posso No 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 Se io trovo le chiavi Ok In qualche modo Trovo le chiavi Poi lei mi può Aprire la porta Per andare in quel posto Le puoi aprire Anche da sola Cioè da solo Ma i libri Dopo Chi mi li da? Ebbè Cerchi un po' in giro E li trovi sicuramente Ma lei conosce qualche magia Molto forte Che c'è all'interno Della biblioteca? No Non saprei Un elfo Prova a smaterializzarsi Dentro E non ci è riuscito Quindi pensa un po' Il cane Ok Va bene Il cappello Grazie Grazie Il cappello si è portato sotto terra Si è portato sotto terra Salve Ciao Ciao Com'è andato l'esame? Quale esame? Non ho fatto esame Io è circa Un anno che non Cioè Che stavo su un'altra città Mi sono preso un anno sabbatico Ah Ho fatto bene Grazie Chiara Grazie mille Va bene Ehm Ehm E niente Quando andiamo lì A vedere queste cose Dei duelli E le cose Perché voglio andare Dritto al sodo Capitolo Andiamo Perché vuole diventare Un duellante No Io sono un duellante Sei duellante più Sei meglio di merdino te Io? Sì Aspetta qualche anno Poi ti faccio vedere Che buccio di culo Che ti faccio Cali Raccontami un po' Com'è casa tua Tipo Come è casa tua C'è senso Cioè grande Piccola Abbastanza Media Medio Oh yeah Mamma mia Ma chi è Oh Ma sono gli incanti Inferno Sono gli incanti Inferno Stancho Lancia l'umosole Lancia l'umosole Lancia l'umosole Lancia l'umosole Lancia l'umosole Ma sole? Vai l'umosole Ma che lingua è? Allora Fosta Pan check È forte? Pan check No Il caldo No non è forte Pan check Incendio? Sì Incendio sì Più forte Di confringo? Sì Incendio più forte Di confringo Sì Incendio Un'altra tecnica Fermo Fermo Basta 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 Incendio Magadeo Poi Dopo incendio Ci sta E per te sta Non so di me per te sta No C'ho Whispeduo Lo hai? Whispeduo C'ho Protego duo Aspetta Importante Protego duo Si può usare Sono buono Guarda Allora Sia il protego duo Dove usare il protego Oh metterlo tu Perché non ha senso Dove è? Dove è? Infatti Sei Protego duo Ah figo Praticamente mi nascondo qua dietro E non mi possono prendere Bello Protego duo Cin C'è Tu sei in fan su Sì Uncendio Una madonna E tu hai impari allora Bombarda Di Whispeduo Cos'è che impari Bombarda Maxima Sì Lui ho impari Bombarda Maxima Bombarda Maxima Forte Il solis Maxima Senti io voglio Io voglio arrivare a imparare Tipo Avatakadabra Eh minchia Ah sì Protego duo No Lo conoscete voi Avatakadabra? No Sì Ti consiglio di fare anche Come si è andata Kali Ti consiglio di fare Un amico C'è l'utilizzo All'arte Scender All'arte Scende Sì Perché tu fai così All'arte scende E dopo da sopra Non c'è Bombarda E ma lo Deve Ti asso di lui Ma voi La conoscete Una certa Parliamo di cose serie Ma voi la conoscete Una certa Nuova Montgomery Sentito su Il nome Ma non so Mai parlatelo Ma che Vengono I bianchi Che Con i bianchi Sì Quella con i capelli Bianchi Sì Quella che Proprio Sì Quella che Puzza Proprio Dopo Marcio Dopo De Fogna Sì Ecco Quella Praticamente Io la voglio Prendere La voglio Prendere Io Voglio Farsi Ragazzo Ragazzo Tu Ragazzo Vai Vai Continuo Do Vai Incendio Fai a fuoco Ciao Continuo No Non togherà Conteso Perché Che è successo Che è successo Non so Vieni qua Sei tu Ragazzo Di nuovo Montgomery Vieni qua Ma se mi senti Vai 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 Cane Chi è che M'ha Dove il cane Brusa Sarbo Il cane Vai Vai Continuo Vai Continuo Bassano Bassano Ma che è successo Oh Mangio Vedo Niente Tutto Bianco Ermo Solo Brucia No Vai Vai Falo Due Lale Non Roppi Il cazzo Vai Fai Fini Tu Vai Continuo All'arte Scendere Vai Continuo Oddio Ok Va Con più Scendere Scendere Vai Due Spaduo Due Spaduo Dov'hai All'arte Scendere Ma è un duello firme un duello Quintino è morto Vai Vai Vittorio Ma dove sta Perciò Si fiume Di merda Va Continuo Calma Di cali La Granissima Campione Fatti Fa Saldire Vai Quinta Fermo Quintino Sperma All'arte Scendere Ma non c'è Dove è che può salire Ma è scomparso Eh lo so Scappato Quindi non so La paura di Tar Aveva paura Di Quando sento il mio nome Tutti Vittor King Vabbè Magali Vedo la morte Quindi Cali Cosa Cali Ti sto parlando Quindi Andiamo Vedere questa casa Perché non è che c'è tanto tempo Da capito Casa Andiamo Andiamo Che sto aspettando Che No Ovviamente Si sottosfere Una casa Di calma Brava Cari A me E' un buon Corso Quintino Anche io Mi sono Ma queste Che devono Favo Ma io Vi ho A casa Riccardo Ma Come dire Che ho imparato Oggi Vai Fali vedere Che ho imparato Ingenio Fali vedere Che Oh Ti avrò Attaccare Oh Ti attaccano Suntilus Guardi con tuo Da lui Devo andare Io devo andare A wish Andiamo A wish Ma 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 Cazzo Ma Io Non Deva Passaggiare La Block Certo Me la Deve Passaggiare Certo Normale Se non Me la Passaggiare Ragazzi Che sto Fa Sto Perde Tempo Praticamente Non ci pensare Proprio Non ci pensare Proprio Allora Voglio ringraziare Dai Dax Yes Grazie Mila Sette Mesi Grazie Mese Sette Mesi De Re Sab Grazie Mille Bellissimo Grazie Mille Grazie Mille Anche A OMG Raptor 27 Messi Grazie Mille Un bacio Enorme Grazie Mille Grazie Mille Ai Bom Grazie Mille Si Si Ma Ma Detto Che Era Ma Solo Detto Che Ma Sono Detto Che Era La Ragazza No Ragazzo De Siamo Questo Bendino Qua Vedere Anche Di Buggia Cari Ma Tu Sei fidanzata Veramente No Alex Chiama Victor Di Stato Mata Dando Fastidio Bravo Bravo Sono Tuo Padre Victor No Io Non volevo dirtelo Vedi i capelli Colore Il beneficio Il beneficio Il beneficio Cazzara Prega Di chiedere Sfiggato No Minacchia Figura Secondo me Gli so Come c'è Trovato Teresa Bregamena Qua Sporca Luridatura Grazie Ma Ci siamo Ma Sto Treno Ma Arrivano Non lo so Non lo so Arriverò Madonna Che Callo Veramente 21 gradi A freddo 21 gradi A freddo Tutto Ma ancora Ma come mai Come è possibile Come è possibile Lo dico io All'aria fredda Ma Chissà Ma chi è Ma perché c'è Che t'ha fatto Io non ti tocco Solo che Andrò ad Ascabandi Perché io Un'altra 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 Chiacchia Ma tutta Stacende Che cazzo È Io Qui Chiuri Si vede Che quella È la parte Dei babbani Infatti Quella parte Eltrano Dei babbani Vieni qua Una Non capiscono Nuova ragazza Si presente A te Tu la ignori Poi ti incazzi Se quelle Dei 22 anni Te costano Ma chi Guarda Quanti Dei luce E Spiegagli Quella La parte Dei babbani Vabbè È una babbani Perché sei così Attaccato a carico O attaccato Appiccicato Con un mollusco Perché Sono attaccati Quei sei un mollusco Non ci scappa Non ci scappa Ma Ciao Un attimo Arriva Vabbè Ce la fai Ce la fai Siamo arrivati Adesso c'è la luce Fa usci anche Vittor Dal finestrino Ora Come fa Io ti butto Caccio in culo Ok Ecco Certo Che cazzo Fai Ah Suarebino Perché fuori Rp Ragazzi È un disastro È la mia Situazione Amorosa Fortale Ittelus Andiamo 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 Chi ha lì C'è Ok C'è Ok Sc Erica ma come fa a volare così forte quella e non ho mai visto a scuola va bene con la da due anni andiamo a vedere sta casa gali questa cosa mi dispiace di fare scusatemi ma tutte queste persone che che so cioè non capisco che dirò su questa è la causa che ho capito e tu chi sei scusami scusatemi ho chiesto a io chiesto a cari di venire qui io abito qua io abito cosa è che io sono lì a casa perché perché tuo padre le valli che come casa mia ali anche ci vuol che pozione ma questa casa tua e che ci fanno tutti questi qua perché anche casa mia sì ma che cazzo se un bambino adottato che pensavo di avere un ambiente più intimo più privato io e lei mi puoi aprire la porta gentilmente ha detto se li puoi aprire la porta e puoi aprire grazie apriate ma veramente eh sì io ci abito qua te l'ho detto che ho troppo locali eh sì è mia madre allora ragazzi tutti fuori fate la scelta e lasciate quittimus e cali tutti fuori fermi quindi lo so l'uomo il diritto sono cali il diritto questo non è il punto il suo calico il diritto ma notte martini che voglio i miei galeoni rivaio andiamo quindi andiamo con il testo non è un giro guardate cario anima con te corti di los con i conti giro se abitius posto Dove sta quello che vende le pozioni? Ehi tu! No, no, lui non è... Dove sta i cittadini di questo posto, che merda? Ehi tu! Habitati qua? Perché sei andato qua? Perché li voglio i miei galeoni Li voglio C'è nessuno? Apretemi Devi dare il tempo che arriva Come si chiamava sto pupazzo Che abita qua dentro Adorfus Sì 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 Perché sto qui? Cosa? Io l'altro giorno Non voglio parlare con voi Non posso parlare con voi Sta arrivando Ah eccolo Uè Ti ricordi di me? Ciao Che succede? Serve Ecco proprio te li cercavo Posso parlare con lei in privato Senza loro due perché non so chi siano Sì Ok A dopo Allora Innanzitutto eccoci Insomma ben Ben ritrovati ecco Perché insomma ci siamo ritrovati dopo Per sfortuna sì Che sfortuna no Ma lei c'era l'altra volta? Sì Ok Allora Le voglio parlare di una cosa importante Ok Allora io l'altro giorno ho pagato 300 galeoni Per Per quella roba Eccetto lo so Lo so ma Allora cosa è un troppo Io ho bisogno di questa pozione La mortu sia La martenza Come si chiama? Non si vuole da qualche altro porto Scusami Io ho dato 300 galeoni L'altro giorno Per questa Pozione Abbiamo un burro pesa E porca troia Chi è? E quindi? E quindi vorrei un riscontro da parte vostra Se è possibile avere un riscontro Io so che qui non ci potrei neanche più tornare Perché comunque ecco Lei è bandito da qua No non sono bandito Non sono bandito Non dica fesserie per favore Però Lei è andato qua tutte le volte che è entrato Com'è che è uscito? Mi ricorda? Non mi ricordo niente dell'altra volta Quello che è successo Non portano ancora E se parla di un anno e mezzo fa Non mi ricordo nulla Non mi ricordo Ok? Io voglio solamente sapere Questi 300 galeoni Perché Allora io non è che Che sto qui Beh mi scusi Ha per cazzo da bere e da mangiare Perché non c'ho No Eh Eh mi serve da bere e da mangiare Allora Problema tuo Allora Io voglio capire Che cosa dovrei fare In questo momento Cosa dovrei fare Andare via dal cazzo Uscire L'ho anche supportata troppo A lei Dopo una volta Dopo una volta La terza mi rompo il cazzo Cioè praticamente Tutto quello che è successo La scorsa volta Cioè Nel senso Cioè Cosa dovrei fare Adesso in questo momento In che senso? Io sono andato qui Per chiederle aiuto Ok Non le do questo aiuto Ok Ok Ho perso troppo Ho perso troppe volte La pazienza con lei Signore Continuo Scuso Capito? Io vorrei Sapere Cosa dovrei fare Capiscimi Per favore Cioè Sono bloccato Ok Lei Entra Tante volte Con il ricordo Da quello che mi ricordo E tutte le volte Quando ho perso la pazienza È possibile recuperare Questo rapporto? Perché Non Cioè Con me personalmente no Ok Con lei Non ho capito Però Basti la voce Vorrei capire Se è possibile In qualche modo Insomma Cioè Cosa dovrei fare In questo momento Secondo lei Cosa dovrei fare In questo momento Ok A parte andarmene via Ok Che quello È sottointeso Ma A quanto pare Voi sapete dire Solo quello Vattene via Vattene via Vattene via Beh Avrò fatto qualcosa Per farsi continuare A dire questa frase Se non avessi Cosa avuto questi problemi Io l'altro giorno Sono venuto qui A chiedere la mortenza Ok Sì Avete voluto i galeoni Ve lo dati Ma Non ho avuto Nessun tipo di riscontro Da parte vostra Ci sarà stato un motivo Cioè Io sono arrivato dopo Eh Sono arrivato dopo Io quel giorno T'hanno preso i galeoni Buon per loro A me non interessa Se t'hanno preso i galeoni Eh Ok Io voglio capire Questa Il proprietario Del negozio Quando viene Non lo so Eh io sto qui per lui Ma non credo che Non credo che La farà entrare In Lucana Nel negozio Sendo che Ormai qua La voce su dire Si è sparsa Eh Non credo che Scusami Io l'altra volta Ho parlato di affari Con i suoi amici Lì Con i suoi vicini Di casa Ma adesso Ok torni l'altro giorno Come Torni l'altro giorno Non ne vedo se ci sono Io personalmente con lei Non voglio nemmeno Parlarci più Praticamente Ma perché Non abbiamo mai parlato Ho detto Ho detto che è rivenuto dopo Lei ha causato problemi qui Ma che problemi Ho causato Mi scusi No le viene qui Le ha tutte le volte No Se lei esce Come è entrato Ci sarà un motivo No Vabbè dai Ciao 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 Allora. Grazie a tutti. Vabbè, eh, ci sta. La pace, il bene e l'olore. Sì, sì, la rossa è lì dietro. Ah, è un'aula, è un'aula. Corruzione. Non lo definirei un'aula. Sì, l'ho fatto. Sì. Ok. Sì. Cioè, io voglio fare solo RP, ragazzi. A me non me ne frega un cazzo, a me. Cioè, io voglio fare RP, porca puttana. Qui il gilis? Sì. Sei stato all'Octis? Ero con te? Forse. Ero con te, qual è finita? Ci sei riuscito? No. A parlare di quello? Ma perché? Che è successo? Dimmi, ti posso aiutare? Che li conosco. No, non credo, mi puoi aiutare. Io vivo là. Quindi, lo so. Dimmi tu. Come? Dimmi, se ci hai litigato, che è successo? Ti posso aiutare? No, niente. Non penso che tu mi possa aiutare con quella gente lì. Dico, io ti posso aiutare con la. Vedo ogni giorno. Tu vivi là? Sì. Non ci credo. Va a chiedere. Tu mi ha noctis. Sono a casa là. Non ci credo. Perché non ci credo. Portami allora dentro a casa tua. Ok. Andiamo. In che modo lei... Victor? Aspetta un'ottima. Perché? Quali prove? Perché mi parla? Chi? Sì, ma io non mi fido. Cioè, prima voglio vedere se è veramente a vita là. Io non ti sento. Vieni, vieni. No, a lui che... Andiamo. Cioè, è difficile qua la vita. Cosa? Ma è a casa tua? La casa? Ho spiegato che io sono di notte. Perché non sto sempre là. Sì, sì, sì. Ma io non mi credo. Finché non vedo, non credo. Niente. Dai ci parla qui. Proviamo a risolvere. A risolvere, quindi, giusto. Anche. E allora spiegami, chi è quello lì che stava lì? Quello lì che stavo parlando io. È un cittadino di notte, scrive che lavora in quel negozio grado. Lavora? In serie, sì. Non lo so. Grazie Vincix, grazie mille della sabba, grazie. Grazie mille, bellissimo, grazie. Oh, dove vai? Fermati! 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 Anastasia! Io? Allora, sì. Io devo parlare con lei, assolutamente. Stai già parlando con me? Sì, lo so. Allora, senti. Tu la conosci, Nova? Montgomery. Sì, non troppissimo, ma sì. Ok. Senti, devo un attimo risolvere con questa persona qui a sinistra, la mia sinistra. Più tardi, se ti mando una pergamena, ci vieni? Ci diamo appuntamento, ti devo parlare di una cosa importante. Ok. Non sto scherzando, cioè, è una cosa veramente importante. Eh, ho capito, va bene. No, perché tutte le volte che ti mando le pergamene, ogni volta mi dici, non mi rispondi, mi ignori, sto lì che ti aspetto, non vieni. No, io non è che ti ignoro, rifletti su quello che scrivi sulle pergamene. Che ti scrivo? Non posso mai rispondere. E che ti scrivo? Eh, cos'è brutta. Tipo? Eh, tipo... No, non lo ripeto. No, dai, lo di, lo di, lo ripeti. No, no, però se tu mi invii una pergamena normale, io ti rispondo. Che cosa ti scrivo? Perché magari non sono nemmeno io che ti scrivo. Tanti mi scrivono strega calda, tre chilometri da te. Che cavolo ne so io? Ma magari è qualcuno che ti scrive al posto mio, che ne so? Che ti scrivono? Eh, circa la stessa cosa, più o meno. Eh, ma non sono io che ti scrivo? Che ti scrive? Mago caldo, cinque chilometri da te? Eh, mi auguro di no. Ma io non sono io, non sono io quello che ti scrive quelle cose. Se ti scrivono delle pergamene, devi assicurarti che te le scrivo io. Perché ti assicuro, Anastasia, che io, tutte le volte che ti ho scritto, è solo perché volevo parlare con te di cose serie. Cose serie. Quelle stupide, ok? Non sono io che ti scrivo. Ok, va bene. Allora, se mi manderai una pergamena normale, ti risponderò? Certo. Che cosa ti ho scritto sulle ultime pergamene? Sentiamo, ripeto. Eh, no, circa queste cose qui. Però hai detto che non sei stato tu, se non sei stato tu, va bene. Che t'ho scritto? T'ho scritto veramente? Ti hanno mandato pergamene con scritto mago caldo? Eh, sì. Veramente? Capisci? Se tu mi scrivi una pergamena normale, io ti rispondo, non c'è problema. Il problema è che tanti si firmano col mio nome, capito? Eh, lo so. Purtroppo è una cosa antipatica, sì, lo so bene. Vabbè, io tra poco ti scrivo, mi devi rispondere. No, anche se mi puoi. Mi devi. È imperativo. Ok. Ok, a dopo. Va bene, a dopo. Andiamo a vedere sta cazzo, ciao. Andiamo, andiamo, andiamo. Ma lo state portando a Noctis? Woohoo! Ahia, che dolore, mannaggia, santo, santo Stefano. Ma che sono tutti questi bambini, Morgano? Guardami, via di qua. Via, via! Sei di minorenni, non puoi stare qui. Via, sei di minorenni, via, via! E tu mica sei maggiorenne. Io? Eh. Io non c'ho mia, non c'ho manco una magia. Io sono maggiorenne, so. Non sulla carta, ma di testa. Vabbè. Ah, qui te lo stiamo, andiamo, 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 andiamo. Grazie, grazie. Brava, brava. Ah, potremmo passare entrati qui. Scusami, possiamo parlare? Sì. Allora, che è successo con Noctis? Con un bel cazzo. Non è vero. Non bel cazzo, sì. Non è vero. Cosa è successo? Scusami. Spiegami un po'. Un attimo solo da poter... Io vivo qua, non credo che mi può parlare in questo modo, sbaglio. Dopo, da poter rispondere. Dopo, da poter rispondere. Dopo, da poter ringraziare tutti. Anattimo. Mi spiego, forse possiamo specificare questa cosa, perché... Intimo, se non vuole fare... Non dare fastidio a nessuno, ecco. Quindi, se mi spiego un po' quello che è successo, vediamo di risolvere. Ma io voglio sapere se lei abita qui o no? Perché io non ci credo finché non vedo. Dove abita? Che? In quale casa? Io lo so qua, sempre. Dove? In quale casa? Eh, fra qua compro una casa. Eh, allora lei non abita qui, non è un cittadino. Ma sono sempre qui. Eh, ma non è un cittadino, però. No, allora. Glielo direi che sono sempre qua, come sono cittadini, notice. Per chiedere a tutti quanti. Oppure questo signore mi vede ogni tanto sbaglio. Sì, ma non è un cittadino. Cioè, lei a destra non è un cittadino. Io sono venuto qui per farti specificare. È una persona che ho confronto tu da rompe il cazzo. E che si fa i cazzi suoi. E che non viene qua per scherzare. Allora, mi spieghi per favore quando è che io ho scherzato, oppure ho fatto, ho rotto il cazzo, come dice lei. Insomma, questi termini molto, diciamo, barbanesti. Ci sono state varie occasioni. È del tipo? Del tipo che non glielo dico. No, eh, cioè, lei mi ha fatto un'accusa. Mi ha fatto un'accusa. Se un successo le basta saper questo. Lei mi ha fatto un'accusa. Io vorrei sapere quando è che sono venuto qui. Ecco, è. Non insisto. No, allora. Per sentito dire. Allora, lei ha visto con i suoi occhi. Siamo qui per risolvere, però. Io sto parlando in maniera pacifica. Che succede qui? Abbiamo clienti? Sì, eccomi. Lei è il proprietario del negozio? Sì. Io sono qui in Dilios Macchiati. L'altra sera sono venuto qua. M'hanno preso 300 galeoni. Volevo sapere se avevate l'ammortenzia. Ammortenzia? Ammortenzia, sì. Non credo di avere l'ammortenzia in negozio. No, in negozio no. Certo, c'è da ordinarla. Però, insomma, mi serve l'ammortenzia. Lei non credo abbia capito. L'ammortenzia non è troppo legale come vendita. Ma qua stiamo a Noctis. Non stiamo a Wishare o all'altra parte. Io sto cercando una roba illegale. Certo, non stiamo parlando di cose legali. perché altrimenti andavo dal professor Piton, mi facevo fare una pozione e via. Cioè, a me mi serve roba illegale. Sto cercando l'illegalità. Voglio l'illegalità. Beh, non è qui che troverà l'illegalità. Io ho tutte le certificazioni per vendere i miei... Ma chi te crede? Ma chi ce crede? No, davvero, davvero le certificazioni. Ma chi ce crede? Dai, assù. Ma qua si trova di tutto. Qui, in quel negozio lì, c'è di tutto. Dicono, ma ne parlano così bene di quel negozio. Dicono che c'è il miglior pozionista, il miglior proprietario di tutti i secoli, dei secoli, di tutti i castelli magici, di tutto il universo. La ringrazio per l'illusinghe, ma posso assicurarvi che nel mio negozio si vendono solo pozioni legali, scope e libri teorici dei grandi. Niente di più. Allora, calma, calma. Parliamo di cose, diciamo... Mi serve l'ammortenzia. L'altro giorno ho pagato 300 galeoni per questa informazione. Mi hanno detto che lei vende questa pozione. La vende proprio lei. Che lei la fa, la produce. Io produrre l'ammortenzia? Spero tu stia scherzando. È praticamente impossibile per un alchimista replicare l'ammortenzia. No, replicare. Farla. Sì, replicare nel senso di crearla. Non so chi vi ha dato questa informazione, ma l'ha semplicemente spillato 300 galeoni. Senti, questo qui a destra, chi è questo qui alla mia destra? No, non ne ho idea. Un cittadino? Perché lo chiede a me? Mi sembro il dosco del ministero. L'altra volta, quando sono venuto qui, ok? Senti, è inutile. Questi non mi vogliono far fare RP, ragazzi. Questi mi bloccano l'RP. Allora, l'altra volta, quando sono venuto qui, ok? Mi sono levato, mi hanno praticamente letteralmente spogliato. Mi hanno... Poi non mi ricordo nulla, mi sono alzato in uno stato confusionale in un'infermeria. E praticamente, nulla, avevo una cicatrice, che adesso, piano piano, è un... Diciamo, se vuole, gliela faccio vedere sul petto. No, 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 non ci tengo, grazie. C'era raffricurata una V. Una V da che? Se non lo sa lei, come posso saperlo io? Non lo so, perché qua erano i cittadini che mi hanno fatto sta roba. Ripeto, io sono un esercente, non sono di certo il sindaco di Noctis, né tanto o meno il desk del ministero per darle informazioni sui clienti. Senta, allora, a me serve questa pozione. Capasco. A tutti i costi, veramente, costo o qualche costo. Non stiamo parlando con il Presidente, non stiamo parlando di roba legale. Ho bisogno di roba illegale. Io vi ripeto, la mortenzia non è trovabile nemmeno sul mercato nero. Dovrebbe rivolgersi all'ufficio misterico. Senti, senta, mi scusi, ma... no? Eh... Vabbè, niente, la ringrazio e niente, ci vediamo alla prossima. io la saluto e niente. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. A presto. A presto. No. Grazie a tutti. 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 Allora... Cazzo è qua... Cazzo... Cazzo... Ma che è sta roba? Cazzo... E vabbè... Interessante... Allora... Scrive una pergamena... Cara... Anastasia... Sono... Montilio... Proviamo a fare un altro tipo di RP... Vediamo... 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 Ok... 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 Non c'è... Non c'è senso... Non c'è senso... Non c'è senso... Continua a giocare su... Un server dove... Non c'è senso... Non c'è senso... Non c'è senso... C'è... Quello che mi hanno detto in assistenza... Ciao... Quintilius... Ciao... Ciao Anastasia... Dimmi... Come stai? Va bene... Tu? È un po'... Deluso... Da chi... O da cosa? Eh... Lì... Ti ho vista lì... Che stavi seduta lì... Sì... Perché l'altro giorno mi hanno... M'hanno rubato... Tanti galeoni... M'hanno rubato... È un posto un po' particolare... Sì... Diciamo che... Mi sento... Mi sento truffato... Eh... Può capitare... Diciamo che sono... È una zona dove se... Una parolina fuori posto... Può... Costarti qualche galeone... Sì... Io cercavo una magia... Una pozione... Cercavo più che altro... Ok... Cioè? L'ammortenzia... Eh... Beh... È un obiettivo molto grande... Sì? Com'è? È un obiettivo molto grande... Nel senso... Parliamo di una pozione illegale... E soprattutto... Come dire... Si fa fatica a reperire anche... Eh... Rivolgendosi a chi... A cosa ne occupa... Sì... Esatto... E io... Ho bisogno... Di questa... Pozione a qualsiasi costo... Ah... Per farci che? Perché la voglio dare a una persona... La voglio dare... Eh... Mi ha trattato... Mi ha trattato malissimo... In questa città... Mi ha veramente trattato male... Ma di un male che te ne anche immagini... Dicendo cose veramente brutte... Brutte brutte... Su di me... E io la volevo far pagare in qualche modo... Beh ma non c'è solo la mortensia... Come modo per far pagare qualcosa a una persona... Cioè... Se il tuo obiettivo è farla pagare a lei... Ok... E vedi che comunque la mortensia non è reperibile... Eh... Trova un altro modo per fargliela pagare... E mica esiste solo quello... Neeling... Ovvero... Che... Quali modi esistono per far pagare... Eh... Ognuno ha i suoi... C'è chi ad esempio... Utilizza dei... Come dire... Metodi più... Eh... Nascosti... Cioè ad esempio... Se lei o lui... Ha un ruolo importante... Nella società magica... Puoi fargli perdere quel ruolo... Se ci tiene... Oppure se... È legata a qualche persona... Nello specifico... Puoi far sì che lei... Abbia dei problemi con questa persona... O addirittura si lasci con questa persona... Eh... Oppure del male fisico... Ce ne sono tanti... Dipende da cosa ti piace fare... Eh... Ti ho lasciato senza parole addirittura... Mm... Ma chi è questa persona che ti ha fatto del male? Nova Montgomery... Mm... E in che modo ti ha fatto male? Fisicamente o verbalmente? Verbalmente... Eh... Beh... Allora è più facile del previsto... Falle anche tu del male verbale, no? Scopri qual è il suo punto debole... Ho scopri... Non ci riesco... È qui fuori, sai? Ci ho provato... Ma hanno chiamato l'assistenza... È? Beh, allora, provo a farle del male verbale senza esagerare, nel senso, allora, ti spiego, se ad esempio tu vuoi insultare una persona, ok? Questa persona non vuole fare, non vuole avere niente a che fare con me questa persona, mi hanno dato l'esilio da questa persona, l'unico modo che avevo per, diciamo, tra virgolette, vendicarmi era farle bere la mortenzia, ok? E farla catturare da qualche persona oscura, capito? Ah, ma non hai bisogno di una mortenzia per questo, c'è pure la saporifera Ma la saporifera che gli fa, saporifera, che fa, saporifera? La saporifera la fa svenire, e una volta che è svenuta la prendi dai piedi e la trascini dentro qualche luogo, qualche posto, e poi chiami, chi devi chiamare? Chi chiamo? Ah, hai detto che... Ma così non significa fargliela pagare Ah, tu hai detto che volevi fargliela pagare tramite dei maghi molto particolari, giusto? E per portarla da quei maghi lì non hai bisogno della mortenzia, puoi utilizzare un sacco di cose Ci sono un sacco di pozioni legali che puoi trovare tranquillamente in vendita e che ti possano aiutare Ad esempio, se tu vuoi andare da... vuoi portare una persona da un posto a un altro, lo puoi fare o con le parole o, non lo so, gli puoi dare, come tu hai detto, una saporifera Ma ci tieni così tanto a fargliela pagare? Nel senso, sarebbe più giusto andare avanti? Sì No? Beh, una volta, guarda, ti racconto una cosa che mi è successa, se ti può aiutare, magari sì, magari no, non so, però te la racconto Una volta, quando ero piccola, avevo un'età minore della tua, sì? O forse era la tua età, non ricordo Ho incontrato delle persone più grandi di me che erano un muro molto più grosso di me, ok? E queste persone mi hanno fatto del male, queste persone mi hanno fatto del male, come dici tu, verbale, non fisico, ok? E ci sono rimasta molto male, però in quel momento mi sono resa conto che c'era troppo distacco tra la mia persona e queste persone qui Poiché erano molto più grandi di me, avevano molta più magia di me e tante altre cose Ho aspettato e poi sono riuscita a, come dire, a risolvere quel piccolo tassello che mi portava avanti da un bel po' Quindi magari è solo questione di tempo, devi crescere Grazie Grazie e ci sei rimasto molto male se non parli immagino Quintilius Tu non sei una maga E cosa sono? Sono una strega? No Cosa sono? Non lo devi dire tu Cosa sei? Cosa sono? Chi sei? Sono Anastasia E chi è Anastasia? Anastasia fa di cognome Lidl È una ragazza, ha 21 anni Fa l'aritmante Non me ne frega un cazzo Chi sei? Cosa vuol dire? Chi sei? Eh, te l'ho detto Anastasia Lidl Mi senti? È crashato Gary Small Neeling Chi sei? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci. Sì. Tu non hai capito qual è la gravità della situazione. E non hai capito questa persona cosa io, cioè io non posso più niente avere a che fare con questa persona, ok? Eh sì, io ho capito la gravità della situazione. No, 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 perché se tu mi inizi a dire io devi fare il male fisico mentre io non posso neanche parlarci, neanche vederla a distanza dei tot metri, cioè mi hanno dato, come si chiama, la distanza minima che non ci posso neanche parlare con questa. A chi ti ha dato la distanza minima? Lei stessa? Fammi rimanere dentro, per favore, non voglio parlare. Eh, allora, allora, ascoltami, allora, sì, dicevo, nel momento in cui non puoi raggiungerla fisicamente, ok, ci sono tanti altri modi per danneggiare una persona da lontano, ma il consiglio che ti do io, nello specifico, è di andare avanti nel senso... No, 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 quindi... Non è una, è una questione di principio. È una questione di principio, ok. Nova Montgomery è una grande vacca! E le vacche? Sai che fine fanno le vacche? Muoiono! E la carne di vacca? Prima ci sputa sopra e poi me la magno! Ok. No! Bene, allora, se ci tieni così tanto, se non puoi avvicinarti tu, falo fare a qualcun altro, no? Si è permessa di darmi del clamun. Eh... E tu gli hai detto che anche lei lo è? A me e a tutta la gente che mi segue, ha detto queste parole, ha detto tutta la gente che mi segue, mi segue solo per ridere, solamente perché sono un cazzo di clown. Poi, poi, quando io cerco, come hai detto tu, di vendicarmi in qualche modo, ok, va a piangere dai superiori, dalle entità superiori, ok? Ok, va a piangere, mi dà l'esodo, mi dà l'esodo, mi dice che non posso in nessun modo parlarci di lasciarla stare, lasciarla perdere. Ma lasciar perdere cosa? Io l'ammazzo! La voglio morta! Eh, eh, beh, allora se non ti puoi avvicinare tu, falo, farà qualcun altro, come ti ho già detto. Ehm... O la voglio morta, oppure un'idea carina che mi era venuta in mente. Si. Darle questa merda di pozione del cazzo! Ma tanto se non ti puoi avvicinare la pozione non le la puoi dare. Faccio trovare qualcuno, la vado a far prendere da qualcuno e gli do la pozione. Eh, però... Poi se lei non vuole più entrare in città, cazzi suoi, non me ne frega niente! Beh, allora, se la pozione non è, non si può, cioè non la riesci a trovare, trova un altro modo, ok? Per fare quello che vuoi fare senza la pozione. E allora spiegami, qual è una magia che uccide per sempre una persona? Perché io, io la voglio ammazzare per sempre! Non la voglio più vedere! Farò qualsiasi cosa in mio potere per ucciderla per sempre! Ma qualsiasi magia può uccidere una persona, non ti serve uno nello specifico? No! Perché se ammazzo una persona normalmente, poi questa qui, la sua anima, io gli voglio divorare l'anima, la voglio uccidere per sempre! Non voglio che resta più niente dentro di lei! Ma io ti ascolto anche se non urli comunque, cioè ti sto ascoltando, sì? Devi farti più furbo di così, Quintilius. Se vuoi veramente nuocere una persona, cerca di trovare un modo per farlo. Chi cazzo è? Chi? Qualche testa di cazzo che sta urlando, che sta ridendo qui vicino! Chi è che urla? Chi è che sta ridendo? No, credo fosse fuori, sì. Non ti devi agitare, ma poi, allora, ci sono tanti punti che puoi prendere di questo discorso. Alla fine, allora, se con lei ci hai litigato e comunque avete un brutto rapporto, stai con altre persone, no? Mica sei costretto a stare per forza con lei. Poi magari un giorno, se ci sarà la possibilità, ti vendicherai di quanto ti ha fatto in passato. Ma per il resto puoi, ecco, aspettare. Io voglio diventare un mangio a morte, voglio diventare un mago scuro, voglio ammazzare le persone. Voglio uccidere le persone, per sempre, non voglio lasciare più nulla, nessuna traccia. Beh, i mangio a morte vengono spesso qui a Wilshire, l'altro giorno è venuto il figlio. Mi puoi aiutare in qualche modo, voglio convertirmi. Non sto scherzando, Anastasia. No, è che sei piccolo, per pensare... Non me ne frega niente, voglio convertirmi. Voglio ammazzare le persone. Beh, non penso che ti serva l'aiuto di qualcuno per farlo. Puoi farlo qui. Come si passa al lato scuro? Non lo so. Cioè, hai due secondi per dirmelo. Ma pure cinque, se non lo so... Oppure ti do fuoco. Eh, ma se non lo so, puoi fare quello che vuoi, ma come faccio? Cioè, hai una bacchetta puntata, proprio lì, sulla fodera. Vuoi che ti do fuoco la fodera? Dimmi come cazzo si diventa un mago scuro! Eh, non lo so. Come si diventa un mago scuro? Lo sai! Eh, no. Cosa ci facevi là, Noctis, allora? Eh, ci vivo. Ci vivi! E allora, da dove ci vivi? Dimmi come si diventa un mago scuro! Ma lì non ci sono maghi scuri. No! Eh, no. Come si diventa un mago scuro, Anastasia? Io so chi sei! E chi sono? In questa città, in questo castello, nessuno mi rispetta! Ma te puoi pure grattare la fregna, con sta cazzo di mano! Ora tu mi dici, o come si diventa un mago scuro, o io ti uccido! Eh, uccidimi, perché non lo so. Incendio! Dimmi come si diventa un mago scuro! Non lo so. Lo sai! Io ti brucio viva! Ok. Dimmi come si diventa un mago scuro! Eh, ma se non lo so cosa ho, come faccio a dirvi? Lo sai! E tu come fai a sapere che io lo so, se lo so? Chi è il capo dei magli oscuri? Il signor oscuro, immagino. E dove sta il signor oscuro? Il signor oscuro intanto viene a Wilshire, ma non è qui adesso. A Wilshire viene? E come si chiama? Il signor oscuro? Si chiama Tom Riddle. Oh, Tom Riddle. Eh. Questo nome lo conosco. Eh, 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 sì, lo conosce, credo tutto il mondo magico, su per giù. Dimmi, questo Tom Riddle. Eh. C'è il numero di telefono. Eh, il, eh, ehm. Il gufo? Sei sicura che è un mago scuro? Eh, beh, eh, ha ucciso, eh, in piena piazza Wilshire il generale degli Auror, quindi immagino di sì. Incendio! Bucciarda! No! Tira giù la panchetta! Io sto conversando e non c'è bisogno che mi fai incendio. E io no! Eh? Perché adesso le posso in due. O mi dici come si diventa un mago scuro dove posso trovare questo Tameriton? Oppure... No io! Tu muori! Ti uccido! Ok, uccidimi. Ok. Quanta vita c'hai? Scusami. Quanta vita c'hai? Ah, su per giù, cent'anni un po' come tutti, credo. Mi auguro almeno, sì? Incendio! De Whisper! De Whisper Duo! Fermati! De Whisper! De Whisper! De Whisper Duo! Incendio! Bastarda! Babana! De Whisper! Babana de merda! Babana! De Whisper! De huma! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Va bene. Mi faccio uccidere. Non me ne frega un cazzo. Ora potete ficcare in su per il culo l'assistenza. Grazie a tutti. No. Mi faccio uccidere. Grazie a tutti. Vieni in assistenza, Matteo, un attimo. Un'assistenza. No. Si, Matteo, deve venire in assistenza. No. Parliamo lì, parliamo lì in assistenza un attimo e capiamo cosa fare. No. Io non ci vengo in assistenza. Perché? Perché se vengo in assistenza lascio il microfono attivo. L'audio attivo. Per quale motivo? Perché la scorsa volta mi avete fatto mutare. Vabbè, ma quando si parla di cose importanti è meglio mutarle. Lì il discorso era anche RP, quindi non si spoileravano nulla. Allora, dato che volete parlare, parliamo qui, parliamo. Io sto qui, se volete parlare. Io perché devo venire in assistenza? Perché è semplicemente lì, sono successe cose che non dovranno succedere, ne parliamo lì in assistenza. Che è che non doveva succedere? Sentiamo. No, 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 si parla di azioni in game, parole dette, cose dette. Qua c'è un contesto da seguire, un ambiente da seguire. Bisogna venire in assistenza per queste cose però, Matteo. Vengo in assistenza, poi mi fate sapere, mi fate sapere dopo due settimane che vi scrivo e nessuno mi risponde? Come la scorsa volta? Alle 18 ti aspettavo, effettivamente, però avrei avuto i tuoi impegni, però comunque alle 18 ti aspettavo. Beh, su questa hai ragione, ti chiedo scusa. No, 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 non è un problema, vieni in assistenza se riesci però. Tu hai capito che io voglio morta Nova Montgomery? O non l'hai capito? Va bene, questo è RP, lo lasciamo in RP, non mi interessa, poi il tuo personaggio cosa vuole o non vuole fare, però dobbiamo parlare un attimo della situazione che è successa. Arrivo. Org Org Grazie. Grazie. Vabbè, ma era un botto, non era... Vado a pigliare pesche. Matteo vai a Zanzara. Non so, morto di figa. Non ci vado. Mi dispiace. Salve Matteo. Sì. Ciao. Ciao. Piacere. Io sono l'altro founder. Io e te non ci siamo mai conosciuti, non abbiamo mai parlato. Arrivo. Piacere. Mi chiamo Matteo. Te? Piacere mio. Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao. Allora, spiegami una cosa. Io ho visto effettivamente quello che è successo con Anastasia. Ok? Ok. Ciao. No, è una cosa importante. Ti chiedo gentilmente di mutare a live, dato che stiamo facendo un'assistenza. E se non voglio mutare che fai? Mi denunci? No. Semplicemente dato che sei a casa mia, decido io se effettivamente muti a live oppure no. Se io fossi a casa tua, tu decidi se muti una discussione oppure no. Ma io in realtà sto a casa mia. Sì, ma in questo caso siamo in assistenza e stiamo parlando di un'altra cosa. Ma... La live è... La live è come se stessi a casa mia, mi scusi. Sì, la live sono d'accordo. Ma in questo caso, dato che siamo in assistenza e stiamo parlando di cose di gioco, gradirei comunque parlare in privato con te. E perché devo mutare? Perché sono cose private del server ed è una cosa che riguarda te, non è una cosa di dominio pubblico a mio avviso. Ma è un gioco, alla fine... Parliamo del gioco, no? Sì, gioco. Non dobbiamo parlare di cose private, intime, riservate. Ok, però in questo caso ti ripeto, siccome io vorrei parlare direttamente con te, in sala di noi, le direi che tumulassi la live. Molto semplice, non credo sia molto complicato. Perché dovrei? Ma che significa perché dovrei, scusami? Perché devo interrompere un servizio di intrattenimento per parlare con lei di un gioco. Appunto perché è un gioco, penso che si possa tranquillamente dialogare anche in live. Ok, ok. Non è una questione di dialogare o meno. Qui c'è un regolamento. Quando vanno fatte le assistenze, o live, o registrazione di qualsiasi tipo, non vengono accettate. C'è scritto? Cosa? C'è scritto su un... Sul regolamento c'è scritto? Se non sbaglio c'è scritto. E se sto sbagliando, c'è una regola fondamentale. È quella iniziale, proprio quella che tu leggi all'inizio. E se qualcosa non è scritto nel regolamento, noi prendiamo dei provvedimenti. Quindi abbiamo libera scelta su come decidere di fare un'assistenza o un'azione. Proprio c'è scritto il primo paragrafo del regolamento. Puoi leggerlo tranquillamente. Allora... Quindi... Te sei un founder, giusto? Esatto. Io mi posso interfacciare con te su Whatsapp o in privato se succedono dei problemi? Per qualsiasi tipo di problema? Sì, vuoi farlo. Ovviamente. Non è un problema. Allora ti mando la richiesta dall'amicista. Se me la puoi accettare... Poi muto, eh? Mhm. Fatto. E nel caso... In cui... Diciamo... Ci fosse qualche problema, mi rispondi subito? Oppure... Mi fai aspettare tipo due settimane? No. Io ti posso rispondere anche subito. Però... Effettivamente già di base abbiamo qualcosa che personalmente a me non è piaciuto. Neanche a me. Perché effettivamente considera che siamo in un server roleplay e penso che rispetto reciproco sia tra non player perché come ben sai penso che i player sono giocatori. E i giocatori sono persone. Come di conseguenza gli streamer, come ti hanno detto a te, non sono pagliacci, sono persone, no? Mh. Abbiamo un primo avviso! E porco... Vabbè. Eh... Ok. Mi muto. Arrivo, ragazzi. Vabbè. 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 Vabbè.